La parola è per adesso compiere un gesto semplice ma anche significativo. Il Vescovo invita il nuovo parco a prendere un senso ufficiale del pre della padocchia e quindi lo fa sedere sulla sedia che è il singolo anche della Presidenza della nostra comunità. Non c'è ancora nei passorati e l'initiva si accompagna, si accontenta questa sera della sedia semplice.